Qui viene l'incontro del Buon Ministro perché io le preparo per un viaggio all'estero già programmato e perché non ci sarò. Però direi che c'è stato davvero, lo confermo, perché ieri ci siamo sentiti spesso anche con il prefetto di Varese, con il Presidente del Parco, con i sindaci della zona, direi che erano un po' preoccupati perché stamattina pensavano che non arrivassero i volontari, che sono arrivati più oggi e ieri, quindi la situazione è che abbiamo fatto il massimo, stiamo facendo davvero il massimo, e ringrazio Simona e tutti i volontari della protezione civile, i dirigenti, perché davvero stiamo facendo, a vorrei dire, diavolo a quattro, no, visto che si parla di fuoco. La cosa preoccupante, anche nel telefonato di stamattina con il prefetto di Varese, è che pare che davvero sia questa pollicina dolorosa, sono stati trovati degli inneschi, quindi si sono attivate anche le iniziative di controllo del territorio per vedere, capire, scoprire, prevenire, ovviamente, quello che è successo. Però direi che l'impegno massimo e anche la collaborazione con il vigile fuoco, devo dire anche dall'estero la richiesta che ha fatto il Governo, perché il Governo ha le convenzioni con l'estero, fino a che non avremo a noi una competenza maggiore sulla protezione civile, direi che il Governo si è attivato, lo riconosco questo, e stanno arrivando a mezzo anche dall'estero. Poi ne abbiamo parlato oggi in giunta, ovviamente sono 500 terrochi ettari di questi, i cogi boschievi sono una maggior parte, credo. E quindi adesso abbiamo pensato di, appena saranno spenti gli incendi, di prendere l'iniziativa per l'imboschimento di tutte queste aree che sono andate bruciate, metteremo noi le risorse, abbiamo già parlato con l'assessore Fava, che troverà le risorse per, di intesa con i comuni, gli enti locali, le province, i parchi, tutti gli enti coinvolti per procedere rapidamente al rimboschimento. Anche questa è una risposta importante da dare a questi pazzi, anzi a questi criminali, non pazzi, se ci fossero davvero, se fosse accettato, che danno fuoco ai boschi, e la risposta è, noi speriamo si è accettato, ok? Dio, domande?